Ciao ragazzi, bentornati al corso di working, nuova lezione, nuovo approccio. Oggi parleremo della differenza, cioè di differenza, parleremo del nuovo approccio, approccio del cosiddetto scalare, che a differenza di quello che abbiamo visto finora, dove abbiamo sempre suonato gli arpeggi, le note dell'accordo, di ogni brano, di ogni standard, di ogni sequenza armonica che abbiamo visto, dove abbiamo aggiunto solamente le note cromatiche o le estensioni fino alla nona, esiste appunto questo nuovo approccio che ci permette di rendere il nostro working più scorrevole, combinando magari due approcci anche più interessanti. Oggi ho preso di riferimento le prime battute di uno standard che adoro, The Things You Had, presso celebre da versione cantata da Ella Fitzgerald, un brano che adoro, che mi tengo ancora su velocità lente, con le basi audio, così in modo a capire bene vari argomenti. Allora, le prime quattro battute del brano sono Fa minore settima, Si bemolle minore settima, Mi bemolle settima, La bemolle major zen, e poi Re bemolle. Comunque, fermiamoci a queste quattro battute, suoniamo un working, una linea semplice di working cordale, con l'approccio cordale, quindi con le note dei vari appelli, Fa minore, Si bemolle minore, Su da derza, Mi bemolle settima, Re bemolle, Si bemolle settima, un attimo con la base, la prima linea che mi viene in mente, con l'accroccio cordale. E' un attimo con la base, la prima linea che mi viene in mente, con l'accroccio cordale. Sentite che, ora magari in questo piccolo spazio non si sente troppo, ma dopo un po', il mio working, se rimanessi con questo approccio, diciamo all'infinito, risulterebbe un po' macchinoso. Questo è dovuto ai vari salti, ai vari intervalli che utilizzo, che sono più o meno ampi, e rendono meno fluido il mio accompagnamento. Per questo esiste appunto un altro approccio che consiste nell'associare praticamente una scala ad ogni accordo, più o meno, o comunque una serie di accordi a una sezione di un brano. Come questo brano cambia molto spesso tonalità, ad esempio si può prendere quattro, otto battute alla volta, associarci, associarci una scala. Oppure, per ogni accordo, pensare subito a una scala di riferimento. Questo ho messo degli esercizi apposta, per, diciamo, allenarvi, per studiare in questo modo. Nelle prime quattro battute siamo in A bemolle maggiore e F minore. Qui si entrerebbe un po' nell'analisi armonica del brano. Per questi argomenti vi rimando al mio corso completo di armonia applicata. Fa minore è un sesto grado, quindi ci associo una scala minore naturale. Poi c'è un Si bemolle minore settima che è secondo grado. Mi bemolle settima è il quinto, quindi c'è un 2-5-1 perché risolve il Mi bemolle maggiore settima. I primi quattro accordi, Fa minore, Si bemolle minore settima, Mi bemolle settima, Fa bemolle maggiore z. Cosa succede? Quindi facciamo un esempio. Mi bemolle maggiore ovviamente. Scala maggiore. Cosa succede? Quindi facciamo un esempio nelle prime quattro battute posso usare le altre note dei vari accordi che non sarebbero contemplate nell'approccio col dare. ovvero non la sesta, 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 non la sesta. Quindi Fa minore posso arrivare al Fa minore al Si bemolle minore settima usando anche ad esempio la seconda o la quarta. e Raviamo. Donica, seconda, terza minore, note cromatica e A Rego B. Si bemolle penso al Dordica, o Scala Dordica Mi bemolle settima. Pensando qua a Mi bemolle e a scala di isolire vado all'A bemolle. Quindi proviamo con la base l'approccio scalare. La base l'approccio scalare. Sentite già che il nostro walking prende un'altra piega, un'altra forma. Questo potete sperimentare su vari standard che vi scrivo sul pdf e appunto con l'aiuto degli esercizi che ci fanno lavorare per associare una scala ad ogni accordo. Vedete tutto scritto. Per ora vi saluto e ci vediamo al prossimo.